Ma faccio il mio personaggio anche adesso, faccio un personaggio sempre, voglio dire, poi non è un mio personaggio, sono tanti personaggi che facciamo, cioè tutti facciamo dei personaggi, poi li cambia come dice Pirandello, poi siamo una persona, nessuna persona, centomila persone. Ho iniziato a fare il mio primo film girando nel film e dopo qualche giorno di ripresa mi sono resa conto che non avevo azzeccato bene il personaggio, non lavoravo molto bene. Questa cosa mi ha fatto un declic, sono tornata a casa, mi sono convocata, ho messo una sedia per la mia attrice interiore e mi sono scusata con lei di non essermi occupata abbastanza di lei e gli ho detto che in effetti ero molto contenta del suo lavoro, che potrebbe ancora migliorare, che però nel futuro mi occuperò meglio di più di lei. Aspirante, aspirante, innamorabile. Scarica l'app, vai su iloft.it e abbonati.